ciao ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi mostrerò due lampadine led che ho acquistato da su amazon bel po di anni fa tipo uno o due anni fa e ancora sono qui imbattibili andiamo a vedere le loro funzioni iniziamo con la prima quella un po più usurata questa è quella che utilizzo di più ho detto ormai è da quasi due anni che ce l'ho la uso specialmente per il lavoro allora un clic si accende normale fascio di luce poi andiamo a fare il doppio clic inizia a lampeggiare un altro doppio clic e fa le sos quest'altra uguale con la differenza che dimenticavo questa è una lampadina led a ultravioletti bene facciamo un clic che si accende la luce normale doppio clic inizia a lampeggiare un altro doppio clic e vediamo la luce uv entrambe poi si possono si può regolare il fascio di luce queste due lampadine arrivano in un loro cofanetto rigido questa qua alla mia sinistra che leggermente più piccola arriva con un suo caricabatterie per la presa civile normale caricabatterie e con due batterie all'interno dove all'interno troverete anche questo adattatore per mettere le quelle più piccole avendo due batterie ricaricabatterie non penso che lo utilizzate come me quest'altra più grande invece arriva con un suo caricabatterie eccolo qua la sua batteria e un altro caricabatterie che utilizzerete se volete per la macchina si aprono entrambe da questa parte ecco qua bene cosa dire di queste due lampadine per me sono veramente fantastiche fanno un fascio di luce grandioso preferisco più questa acqua piccolina perché con più o meno la stessa cifra avrete anche una luce uv e due batterie comprese più o meno queste vengono sui 15 euro trovate su amazon e vi lascio qua sotto il link in descrizione e adesso vi farò vedere anche una prova fatta di notte quella a sinistra e quella un po più grande e quella a destra è invece quella un po più piccola qui siamo in una stanza completamente al buio e si può vedere che la lampadina a destra che è quella più piccola fa leggermente un po più di luce questi sono gli ultravioletti questa è la lampadina quella più piccola si può regolare il fascio di luce questa è la lampadina quella più grande anche con questa regoliamo il fascio di luce e con questo è tutto vi lascio qui sotto il link in descrizione voi potrete acquistare le tocce su amazon grazie al prossimo video ciao